Buongiorno, oggi vi portiamo a vedere delle belle spiagge Andiamo a vedere un po' di spiagge belle Ah comunque No dai non abbiamo infangato neanche più di tanto Pensavo peggio Faremo un po' di queste strade Abbiamo raggiunto la spiaggia di Chia Vi faccio vedere questa bellissima spiaggia Grazie a tutti Questa è Cala Cipolla Una bellissima spiaggetta tra due zone rocciose E una caratteristica di questa caletta qui È che quando dalle altre zone c'è vento e mare mosso Qui il mare è uno spettacolo Grazie a tutti in teoria dovremmo arrivare a una specie di faro che se ho capito bene hanno ristrutturato e reso una specie di bed and breakfast o un hotel, forse direttamente un hotel e di lì c'è una vista spettacolare abbiamo fatto un bel po' di strada, stavamo per arrivare in cima e abbiamo fatto una mara scoperta fino a qualche anno fa, prima che ristrutturassero il faro, si poteva salire fino in cima e vedere tutta la zona ora sembrerebbe che ci troviamo davanti a questa cosa ora vediamo se c'è qualche modo per passare che tristezza, che tristezza ah, beh, 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 è stato più facile del previsto ci siamo quasi questo è il famoso faro che è stato ristrutturato ora dovrebbe essere un hotel e in questo posto hanno girato il videoclip di Ligabue un colpo all'anima quando ancora il faro non era stato ristrutturato e in questo posto è stato ristrutturato comunque è un posto bellissimo ragazzi, è un posto bellissimo guardate lì tutto guardate lì tutto guardate lì guardate lì eccolo aia voglio tranquillizzare tutto abbiamo fatto un cancello ma non abbiamo fatto nulla di illegale qua è pieno di persone che si scatano foto e vengono a vedere il bellissimo paesaggio e il bellissimo faro perciò anche questa volta non mi arresteranno grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti